ciao a tutti ragazzi appassionati di motori oggi siamo qui finalmente in questo nuovo video qua sul canale e si ragazzi siamo nel 2023 spero che i vostri festeggiamenti e questo periodo di riposo siano andati bene e che abbiate iniziato il 2023 nel migliore dei modi oggi siamo qua in un breve video il primo video dell'anno dove facciamo un reset e iniziamo con i contenuti che non saranno solamente qua su youtube ho deciso di abbinare il canale youtube anche alle altre piattaforme ovvero facebook instagram e tik tok infatti inizieranno ad esserci tantissimi contenuti anche su quelle piattaforme e ovviamente in ogni social vedrete parti diverse di me quindi per questo vi invito a seguirmi su tutte le altre piattaforme vi lascio il link qua sotto in descrizione in modo anche da avere la massima interazione e perché nel corso dell'anno usciranno veramente tantissimi contenuti interessanti dopo un lungo periodo di instabilità soprattutto qua su youtube ho deciso di fare un reset completo e iniziare con i video puntando più su me stesso infatti una delle cose che ho in mente di fare è quello di cambiare il nome del canale da motori channel a marco palombaro che appunto sarebbe il mio nome cognome per fare questo aspetterò ancora un po di tempo per appunto sentire le vostre opinioni e per sentire le opinioni delle persone che si avvicineranno grazie ai video nella prima parte dell'anno in ogni caso questo per ora è un punto secondario il punto principale che ho deciso di ributtarmi in questa avventura andando a combinare i social con il mio lavoro che per chi non lo sapesse è il venditore di moto cercando di parlare in maniera più trasparente possibile di questo mondo e di far avvicinare soprattutto più persone possibili a questo meraviglioso mondo che è il mondo dei motori ho già preparato tantissimi video per questa prima parte dell'anno sicuramente qua su youtube ci sarà almeno un video a settimana e tantissimi contenuti short su instagram e tiktok fatemi sapere anche voi se avete qualche proposta interessante qua sotto nei commenti o magari nei commenti dei prossimi video curiosità o contenuti che mi piacerebbe vedere qua sul canale e niente ragazzi come detto era un video molto corto giusto per inaugurare questo 2023 vi auguro un buon inizio anno ovviamente se non l'avete ancora fatto mi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti gli altri social per non perdervi i nuovi contenuti che usciranno nel corso dell'anno una volta detto questo vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao